risoscotti è un'azienda storica italiana opera dall'unità d'italia un'azienda che è sempre stata conduzione familiare oggi lavoriamo in azienda io e mia sorella valentina che rappresentiamo la sesta generazione e oggi risoscotti opera nell'ambito non solo del riso ma di prodotti della diversificazione a base riso quindi prodotti di altre categorie merceologiche che utilizzano il riso come ingrediente primario dietidea ha in sé tutta la forza di una conoscenza ed un'expertise nell'ambito alimentare e della salute di tantissimi anni che è un progetto che è stato sviluppato in collaborazione col professor sorrentino quindi con un team di nutrizionisti esperti che hanno permesso di sviluppare un prodotto di altissima qualità in grado di rispondere alle esigenze del consumatore a cui noi ci andiamo a rivolgere oggi vi spiegherò come nascono i prodotti che trovate all'interno del box dietidea le tecnologie di produzione che utilizziamo in questa azienda sono assolutamente tecnologie all'avanguardia che consentono di avere prodotti senza l'utilizzo di additivi conservanti o coloranti perché sono delle tecnologie che utilizzano dei principi naturali abbiamo questo prodotto che viene sterilizzato quindi attraverso la tecnologia della sterilizzazione quindi della somministrazione di calore abbiamo simultaneamente cottura e sterilizzazione del prodotto che ne garantisce le qualità chimico fisiche organolettiche nel tempo e di salubrità veramente abbiamo tecnologie di disidratazione in cui le materie prime altamente selezionate vengono disidratate per mantenere le loro caratteristiche organolettiche come si faceva nell'antichità mettendo i vegetali al sole e abbiamo tecnologie di di espansione cereali interi ad alte temperature ad alte pressioni espandono e si formano delle croccantissime gallette infine delle tecnologie di UHT cioè ultra high temperature in cui le bevande vegetali vengono sterilizzate e preservate nel tempo tutti questi prodotti vengono poi analizzati chimicamente e microbiologicamente per garantire la salubrità degli stessi nel tempo e fondamentale l'assenza di conservanti coloranti e la selezione molto molto precisa e molto attenta delle materie prime di altissima qualità. L'intenzione dell'azienda di Risoscotti è assolutamente quella di allargare l'offerta in modo tale da andare a coprire il più possibile i bisogni di chiunque abbia a cuore uno stile di vita sano e un'alimentazione completa.